Allora abbiamo ascoltato l'assessore Pascuri che peraltro risponde all'avvocato Biga, uno dei regali del Bari che è intervinto questa mattina in Bendeghen, che ha ricordato che una proposta di transazione da parte del Bari era stata fatta, ma lo sentiremo Biga, ha spiegato praticamente che non è mai arrivata risposta a questa proposta di transazione. Adesso abbiamo un amico in linea, però poi volevo capire dall'assessore Sanicandro perché si dissocia da quello che è accaduto. Pronto? Niente, aspettiamo un attimo. Io volevo dire che a parte i fatti tecnici e la delibera, sono fatti formali e più o meno deprecabili, sicuramente è un incidente di percorso. Però io voglio spiegare perché mi dissocio, mi sarei dissociato se fosse stata discussa la delibera. Per un fatto quantomeno di intempestività. Allora noi eravamo e abbiamo trattato con l'assessore Bari ed eravamo vicini ad un accordo nel quale l'assessore Bari avrebbe versato una quota di quei debiti che ha, crediti. Di quanto stiamo parlando? Qual è il debito? Stiamo parlando di 2 milioni di euro, di cui un milione di euro circa è di sorte capitale, il resto sono di interessi, parliamo di contenziosi ultraventennali. D'altro canto l'assessore Bari ha una rivendica nei confronti del Comune circa un milione di euro per lavori fatti, tornelli famosi di cui si è parlato anni fa che sono stati messi a spese del Bari. Quindi c'è una logica di questo tipo. In ogni caso dall'accordo, da un accordo transattivo, il Comune può ricavare qualcosa, magari non tutto, ma qualcosa può ricavare. Viceversa, da una istanza di fallimento di una società sportiva che notoriamente ha molti altri debili e sicuramente non ha proprietà, il Comune non ricaverebbe nulla. Quindi è assolutamente un provvedimento ingiustificabile perché da un lato non dà nessun vantaggio al Comune. Rimedio peggiore del male. D'altro canto si va a uccidere una società sportiva che rappresenta la città che tra l'altro è un momento già di difficoltà. Quindi è doppiamente, quantomeno sarebbe stato intempestivo il momento per cui avremmo discusso in giunta, cose che spero faremo al più presto e avremmo eventualmente concordato e condiviso con gli assessori e col sindaco di per esempio posticipare questa cosa o richiamare ulteriormente la S Bari e tentare un ennesimo tentativo di mediazione. Mi sembra che abbia dichiarato che la cosa andava fatta altrimenti ci poteva essere un intervento da parte della Corte Conti. Sono vent'anni che va avanti sul contenzioso, il richiamo deve avvenire proprio nel mese di maggio del 2011. Voglio dire che è una questione soprattutto intempestiva. Io apprendo con grande piacere che l'assessore Sanicandro, peraltro noto sportivo e non casualmente assessore allo sport, difenda in un certo senso la storia dell'Associazione Sportiva Bari, la storia dei baresi e la passione soprattutto dei tifosi baresi. A me fa piacere. Però purtroppo fa meno piacere quando questa difesa è assunta dopo un incidente di percorso che si è avverato e che non è un incidente casuale, ma è un incidente che ha una sua cronologia e una sua logica. Che idea si è fatto di questa operazione? Perché? Allora io ritengo che l'avvocatura sicuramente si sarà dal mio punto di vista consultata con l'assessore. L'assessore, se non ricordo male, vado a memoria dagli atti che ho letto, credo che abbia firmato questa delibera o il 12 o il 13 di aprile, quindi un paio di settimane prima. Se così fosse era a conoscenza della proposta di delibera ed essendo egli assessore a conoscenza si presume che la conoscenza sia anche dell'interorgano collegiale, cioè dell'aggiunta municipale. Il fatto omissivo interno, politico, la scarsa comunicazione tra assessore e sindaco è un problema che non riguarda la città di Bari e non riguarda gli interessati. Io sono preoccupato di quello che è accaduto, sono preoccupato perché come dire si va a mettere il coltello nella piaga, la piaga intendo le ferite che il Bari oggi vive sia perché le note vicende calcistiche, purtroppo abbiamo perso la possibilità di rimanere in serie A, oltre a una serie di problematiche che in questo momento la società vive, ma se mi consente soprattutto mi fa preoccupare sulle sorti di qualunque cittadino che si dovesse trovare di fronte a una situazione analoga e non avere la fortuna di chiamarsi associazione sportiva Bari, ma essere un uomo qualunque, un qualunque cittadino, un pinco palino qualsiasi che si trova magari di fronte a una proposta di delibera di giunta votata in suo danno senza che magari sia stata discussa e magari anche che risulti erroneamente votata. Cioè la cosa mi fa rabbrividire. Però c'è un mistero ancora intorno a questa storia perché mi sembra di capire che ci fosse, ho capito bene, la firma di Emiliano che però secondo Pasquale non c'era? Beh questo è un problema che devono chiarire, non so, io non c'ero. Il sindaco era presente quel giorno, ma ripeto, la delibera non è stata discussa in giunta. Se fosse stata discussa l'avremmo sicuramente rinviata o per quanto meno io mi sarei associato. Io so della tua posizione, tu vorrei fare tutto per raggiungere l'accordo. Io vorrei ricordare. Che hanno condotto con me la trattativa per, ripeto, per anni e nei mesi scorsi sono state varie riunioni e soprattutto voglio ricordare ancora la commissione sport bipartisan che aveva dato un indirizzo preciso e il consiglio, permettetemi, politicamente ha un'importanza, un'indicazione di indirizzo politico. Quando viene fatto bipartisan, insomma, secondo me è praticamente un obbligo. Io vorrei precisare questo punto. Noi siamo aperti a qualunque discorso che possa risolvere un contenzioso con l'Associazione Sportiva Bari e soprattutto mettere in difficoltà la vita dell'Associazione Sportiva Bari. Credo che questo sia inequivocabile, per cui per noi va benissimo. Transazioni, conciliazioni, rinunze, compensazioni, qualunque ipotesi percorribili, purché non la morte di una società richiesta presso il competente tribunale. C'è una piccolina, forse prendiamo le telefonate, apriamo al pubblico. Pronto? Ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Ciao. In intenso, premetto che spero che le vicende del Bari non diventino, come spesso accade in Italia, importanti solo per aprire una diatriba politica fra la maggioranza e la minoranza. Detto questo, vorrei fare una domanda all'assessore Sanicandro. La sua amministrazione, per bocca del suo più importante rappresentante, ovvero il sindaco, ha più volte detto che era disponibile a dare una mano alla società sportiva Bari. Ora, in questo momento di difficoltà economica che viene sbandierato da diversi punti di vista, da diverse faccende, che cosa può fare l'amministrazione per aiutare il Bari e per evitare soprattutto che sparisca dal panorama calcistico italiano? Domanda molto corretta. Infatti corretta e proprio in linea con quello che io stavo appunto dicendo. Cioè, in questo momento un'azione di questo genere è quantomeno intempestiva, perché in questo momento la società ha già molte difficoltà e quindi probabilmente anche a tutela del mantenimento della società, anche nell'interesse comunale, perché se la società vive e magari migliora la sua situazione economica potrà saldare il debito. Se invece la società muore, praticamente il Comune non avrebbe più possibilità, a parte il danno alla città, il danno di immagine, eccetera. Ma questo, lo ripeto, anche da parte di privati, nessun creditore vuole la fine, il fallimento del suo debitore se questo non ha possibilità di rimettere il credito. Quindi, voglio dire, è un'azione assolutamente ingiustificata e ingiustificabile a mio avviso, in particolare in questo momento. In questo momento noi, tra l'altro, stavamo lavorando col Bari anche per aiutarne la rinascita, la ricrescita. Stavamo cercando di... In che modo? Ma, per esempio, essendo vicini, diciamo, per esempio, all'accordata di una serie di imprenditori che stavano cercando di aiutare la squadra e quindi mettere liquidità, perché sappiamo che quello è il problema serio, è un problema di liquidità. Una società che ha debiti e non ha possibilità di ricrescita, ma anche la possibilità, abbiamo cominciato a ragionare della possibilità di rendere, per esempio, lo stadio economicamente redditivo, così come è avvenuto in altre realtà europee e quindi essere un aiuto alla società sportiva per tutta una serie di attività complementari che possono essere fatte. Anche di quello ci siamo... Dobbiamo fermarci perché c'è una pausa pubblicitaria, però parliamo di questo ed altro dopo, anche perché ha tirato fuori un argomento interessante, l'accordata, perché l'accordata si è già sfilacciata, non sappiamo che fine farà, però ne parliamo fra pochissimo.